Grazie Presidente, Presidente del Consiglio, colleghi deputati. Ci tengo innanzitutto, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, a smascherare questa sorte di equivoco, perché è davvero inverosimile che da parte sia del Capo del Governo sia della maggioranza che lo sostiene si possano ascoltare degli interventi protesi ancora una volta, come se nulla fosse accaduto in questi mesi, a chiedere la collaborazione da parte dell'opposizione. La collaborazione c'è stata, ma purtroppo non è stata recepita adeguatamente, se non addirittura con telefonate mortificanti fatte per venire ai leader dei tre partiti principali dell'opposizione tre minuti prima che si celebrasse la conferenza stampa per raccontare i contenuti di un DPCM che oltretutto è risultato tuttora, nonostante le spiegazioni del Presidente del Consiglio, del tutto incomprensibile. Quindi intanto cominciamo a mettere i puntini su lei. E siccome li voglio mettere fino in fondo, nessuno si offenderà se per un momento soltanto mi tocca celebrare persino l'ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che quando ci fu un'emergenza terroristica convocò un tavolo permanente a Palazzo Chigi con i capigruppo di tutte le forze politiche, ovviamente a cominciare dai capigruppo dell'opposizione di Camera e Senato. Cosa che non è stata fatta dal Capo del Governo e ha avuto tempo, otto mesi, per poter convocare in maniera regolare tavoli se davvero avesse tenuto a accogliere i contributi dell'opposizione. Comunque l'opposizione ha sempre, generosamente, continuato a produrre e a riversare sul tavolo del Governo, cosa che continuerà a fare anche ora, nonostante mi dispiace davvero, perché quando si parla del Capo del Governo si parla dell'Italia e quando si dice che il Capo del Governo ha fallito si dice che sta fallendo l'Italia. Quindi noi non siamo affatto soddisfatti di dover fare interventi di questa natura, ma ahimè non possiamo non constatare che siamo nuovamente in una situazione di emergenza. A che cosa serve un Governo nelle amministrazioni dello Stato se non riesce a prevenire, a informare, a organizzare, a intervenire, a controllare, a sanzionare, a salvaguardare? Non serve a niente. Allora se ci troviamo oggi qui a discutere in buona sostanza di una seconda ondata del Covid-19 che non è una ipotesi su cui ragionare, ma che incalza, ferocemente, aggredisce. Qui non si tratta di stabilire quanti sono i contagiati in Italia e tra questi quanti siano gli asintomatici, né di mettersi a fare filosofia su magari la necessità di fare interventi sugli asintomatici e costringerli alla quarantena, all'audoisolamento o altro. Qui oggi dobbiamo parlare, e qui la misura del fallimento del Governo, dei ricoveri, delle necessità di avere delle terapie intensive rispetto alle quali, nonostante agli otto mesi trascorsi, agli oggi ci viene a dire che faremo degli interventi per garantire la capacità da parte del nostro sistema sanitario nazionale di ospitare chi sta male, non gli asintomatici, chi è malato e ha bisogno di andare in ospedale, lo sa il Presidente del Consiglio dov'è che finiscono i contagiati che stanno male negli ospedali? Nei pronto soccorso, in regime di promiscuità, rischiando di contagiare persone che magari stanno lì nel pronto soccorso come il sistema impone per altre ragioni, perché voi non siete riusciti a dare gli strumenti in questi mesi alle regioni per essere operative. Avete fatto con la vostra struttura il commissario straordinario Arcuri per il contrasto dell'emergenza epidemiologica pubblica gara di bando il primo di ottobre, chiudendola il 12 proprio perché c'era una necessità di andare veloci, velocissimi, ma perché non ha fatto a luglio sta gara? Scusate, lo dico in romanesco. Una gara fatta a ottobre, ma avete presente che cosa significa? Supponiamo che questa gara, che non sia ancora aggiudicata, altro mistero, perché se è una gara d'urgenza e viene chiusa il 12, per quale motivo non è stata ancora aggiudicata? Ci sarà, e noi lo sappiamo bene, qualche problema. Per esempio la commissione degli esperti non è fatta da esperti e quindi va contro le prescrizioni del nostro codice degli appalti e probabilmente bisognerà ricominciare da capo, questa è una previsione, ve la lascio lì, ma la procedura prevede che ci sia, dopo l'aggiudicazione che ancora non è avvenuta, il contatto con le amministrazioni locali. Quello c'è stato, lo sapete in quale data sono stati avvisati i governatori il 18 di ottobre e dovrebbero attivare tutte le procedure compatibili con il sistema BEI e quindi prima di 4-5 mesi non accadrà assolutamente nulla, ma dopo il contatto con le amministrazioni, c'è il progetto esecutivo, la validazione del progetto, la esecuzione del lavoro, il collaudo, cioè voi oggi ci state parlando di qualcosa che accadrà, il potenziamento dei posti letto piuttosto che delle rapie intensive tra aprile e agosto, vi dovete vergognare! Avete avuto tutto il tempo per farlo. Che cosa avete fatto in questi mesi se oggi non abbiamo la capacità di assistere i malati? Abbiamo già totalizzato 36.000 morti e abbiamo avuto tutta la possibilità di fare quello che era necessario. Benissimo, avete agito sulla scuola, noi siamo d'accordo sul fatto che le lezioni vadano fatte in presenza, quindi potete fare conto sul nostro sostegno, anche se è stato oggettivamente ridicolo sentire lungo e largo a parlare dei banchi moroposto, dei banchi corrotelle, dei divisori in plexiglass. Una discussione interminabile e umiliante, mortificante. E poi non vi siete preoccupati di come i ragazzi a scuola ci dovessero arrivare. A che cosa serve mettere in sicurezza le scuole con l'obbligo della mascherina, il sapone detergente disinfettante e il distanziamento fisico? Ci siete arrivati anche voi, lo avete chiamato impropriamente sociale fino a ieri l'altro, il distanziamento fisico. A che cosa serve se poi questo distanziamento fisico non è garantito nelle stazioni metropolitane, non è garantito a bordo dei vagoni, a bordo delle vetture, nelle fermate degli autobus, per i treni pendolari che trasportano i pendolari? A che cosa serve? Perché non avete agito? Oggi ci venite a parlare di qui la legge di bilancio che verrà probabilmente approvata intorno a dicembre e quindi diventerà operativa i soldi che voi stanzierete a dicembre. Arriveranno le regioni dopo qualche mese, le regioni dovranno poi a loro volta cercare di potenziare il trasporto pubblico locale e dare le risorse ai comuni. Quindi questi 350 milioni di euro per il trasporto, il trasporto scolastico, quello che è, sono intanto una somma ridicola che testimonia che voi non avete capito qual è il problema. Perché lo Stato si deve occupare degli assembramenti e dei sovraffollamenti, non di vietare le feste di compleanno e di dire alle famiglie che non possono stare dentro un'abitazione in un numero superiore ai sei, anche se è una raccomandazione. Ma siccome non ha una raccomandazione che viene dal portiere di uno stabile, ma dal capo del Governo è anch'essa vergognosa, porti pazienza, Presidente del Consiglio. Oppure non dovete dire ai ristoratori che i tavoli vanno composti da massimo sei persone. Voi dovete intervenire sui luoghi dell'assembramento e dovete impedire che ci siano i sovraffollamenti. Nel caso del trasporto pubblico locale dovete mettere in campo i bus privati, i pullman privati, che peraltro, essendo legati alla filiera del turismo, sono immobilizzati nei parcheggi e stanno vivendo una crisi nera. Quindi con una fava prendete due piccioni. Potete, potreste prendere due piccioni. Dovete intervenire facendo le convenzioni con i taxi e facendo abbassare le tariffe con il contributo dello Stato. Dovete individuare tutti i meccanismi tesi a disperdere il sovraffollamento. Questa, non il diviato delle feste di compleanno, questa è una competenza dello Stato. Questa è una sua competenza, signor Capo del Governo. E invece, purtroppo, da questo punto di vista abbiamo accusato dei ritardi fenomenali che ci hanno fatto impennare la curva del contagio, da cui discende la necessità dei ricoveri aggiuntivi. Siamo in alcune regioni a 150 malati che vengono ricoverati ogni giorno. Facendo una proiezione a dieci giorni sono a 1.500, facendola a 30 diventano dei numeri ingestibili che ci proiettano automaticamente indietro nel tempo, riavvolgendo il nastro al mese di marzo del 2020, dove non saremmo dovuti mai arrivare, mai tornare. E se questo accade è per vostra incapacità, per vostra presunzione, perché non siete stati sufficientemente concentrati, non so, interessa poco. Ma a fianco a questa tragedia della sanità, che si trova praticamente nuovamente con l'acqua alla gola, dei primi nuovi contagi di medici e infermieri che anche noi ringraziamo, ci mancherebbe altro, sono davvero eroici, anche perché non hanno intorno a sé tutta la solidà, la comprensione e l'intervento che uno Stato serio dovrebbe garantirgli. A fianco a questa tragedia sanitaria c'è comunque la situazione economica che non è certamente migliore e mi avvia a concludere. Voi non avete praticamente fatto quello che era necessario. Io ho imbattuto, è l'ultima battuta che faccio, le chiedo scusa, Presidente, mi sono imbattuto pochi giorni fa in televisione con una intervista del Presidente della Repubblica francese, quindi certamente persona non affine, non l'era neanche Renzi, citato anch'esso poco fa, al centro-destra. Il Presidente della Repubblica intanto ha detto delle cose molto importanti in Francia. ha stabilito un principio fondamentale, e cioè il principio è che questa pandemia non deve alterare il sistema e la struttura sociale francese. E noi avremmo voluto e desiderato che queste parole le avesse potute proferire lei. Questa infezione, questa pandemia non può intaccare il nostro sistema e la nostra struttura sociale. E questo significa conseguentemente, per citare le sue indicazioni, diciamo così, non arrendersi alla strategia del lavoro da casa. Io lo chiamo in italiano perché Macron le chiama il teletravail, non smart. Cerchiamo anche cortesemente di valorizzare la lingua italiana, perché non se ne può più su tutti i vostri documenti, ci sono sempre anglicismi, dovete oltretutto risultare accessibili. La democrazia significa essere anche comprensibili da chi non conosce l'inglese, da chi non è istruito, da chi ha la terza elementare, e quindi parliamo italiano. Il lavoro da casa e il lavoro a domicilio viene ritenuto dal Presidente della Repubblica francese un problema, perché a casa si lavora male, e lavorare male significa incidere negativamente sull'economia della nazione. Non è un problema che attiene ai singoli accordi. Voi fate esattamente il contrario, cioè andate verso l'incentivazione che significa desertificare le città, mettere in ginocchio il commercio, mettere in ginocchio tutto il sistema delle piccole realtà produttive che in questi decenni sole ci hanno consentito di poter competere a livello internazionale. Queste sono le ragioni per le quali siamo sinceramente delusi per la sua relazione e perché evidentemente non vuole ascoltare dei suggerimenti, dei consigli animati da spirito di collaborazione da parte dell'opposizione. Grazie.